Quindi sì, è proprio successo quello... Incredibile... Lo so... Andiamo Ian, non ti aspetterei davvero che ci crediamo? Ehi, ti ho detto che lo so che è incredibile... Lo sai, eppure ti aspetti che noi crediamo questa storia? Aspetta un attimo, lascialo finire... Vedete, non soltanto l'ha inseguito, l'ha anche chiamato Dominic... E dopo aver ribaltato mezza foresta, l'ha finalmente preso... Ok, ammettiamo che sia vero... Beh, di certo non mi veniva voglia di nachos dopo, ma... Se ne è un po' cercata... Aveva un conto aperto... Credo che c'entrassero qualcosa i familiari... Ha nominato suo cugino e poi ha cominciato a dare l'inescandescenza e spaccare tutto finché non l'ha raggiunto... Maledizione, è un disastro! Dov'è successo? Poco fuori dal recinto... Ha distrutto l'auto e poi l'ha inseguito per mezza foresta... Finché finalmente non l'ha raggiunto essere... Ma dai... Ok, la macchina è ancora lì? Dobbiamo farla sparire... Immediatamente... Sì, ecco, potrebbero esserci un altro paio di morti... Ok... Prendiamo l'elicottero... Veloce... ... 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